Buona domenica, ben trovati in una nuova edizione del TG6 la settimana. I consumatori assalgono i supermercati per far scorta di prodotti di prima necessità. In particolare scarseggiano farina e olio di girasole. Riguardo quest'ultima è a rischio la produzione per il prossimo anno e il MISE ha indicato ai supermercati misure temporanee eccezionali. Ascoltiamo. Supermercati presi d'assalto dei consumatori e gli scaffali, in particolare quelli della farina e dell'olio, sono vuoti. Come accadde durante il primo lockdown da Covid, l'incertezza dovuta alla guerra in Ucraina ha spinto molte persone a fare scorta di beni di prima necessità. Soprattutto oggi, giornata in cui gli autotrasportatori avevano annunciato lo sciopero a causa del caro benzina. Le importazioni di grano dell'Unione Europea provengono per il 20% dall'Ucraina. Un chilo di farina non ho trovato niente. Se arriva la guerra siamo finiti. E ora come fa? E ora come faccio? Mi attrezzo con la farina di Gran Turco, se trovo. In realtà la farina non manca. La difficoltà dei supermercati è piuttosto quella di far fronte all'improvviso aumento della domanda. Come ci spiega il direttore commerciale marketing di Conad Adriatico, azienda che in Abruzzo ha 145 punti vendita. La scorsa settimana, ad esempio, anziché vendere come sempre mediamente 5.000 cartoni di farina, ne abbiamo venduti 15.000. Per forza che poi finiscono, perché non si riesce a ripristinare le scorte né i fornitori sono così abituati a dare il triplo e a produrre il triplo della merce. Occorre che si organizzino per farlo. Quindi la carenza di prodotto non c'è. La carenza piuttosto riguarda l'olio di girasole, importato per circa il 75% dall'Ucraina. Quest'olio ha recentemente rimpiazzato quello di Palma e viene utilizzato in molti prodotti, dalle verdure sott'olio ai dolciumi. Il girasole viene piantato tra marzo e aprile e raccolto tra giugno e luglio. La guerra ora ne mette a rischio la produzione. Se la guerra non si ferma immediatamente, l'olio di girasole non ci sarà fino al raccolto del 2023. Quindi non avremo olio di girasole. E l'olio di girasole in Italia è usato tal quale, da ristoranti, dall'industria. Viene usato come ingrediente perché le verdure sott'olio, le salse, le maionesi si fanno con grandi quantità di olio di girasole. Per questo molti supermercati stanno razionando le vendite. Sono stati esposti i cartelli in cui si spiega che l'acquisto di questo prodotto è limitato. Ogni cliente può portare via a massimo due bottiglie e mezzogiorno e l'olio di girasole è già completamente esaurito. Per questo ai supermercati è giunta una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico che il TG6 vi mostra in esclusiva. Secondo le indicazioni del di Castero, per i prodotti dove sulla confezione è indicato l'utilizzo di olio di girasole dovrà essere aggiunto un adesivo dove si avvisa della sostituzione di questo ingrediente che probabilmente sarà rimpiazzato con l'olio di colza. La Caritas di Teramo ha accolto i primi profughi ucraini giunti in città. A loro arrivo queste famiglie hanno trovato beni di prima necessità e alloggi confortevoli. Ad accogliergli il sindaco Gianguido D'Alberto e il vescovo Lorenzo Leuzzi. Alle donne sono state donate rose bianche ai bambini tantissimi giocattoli. Rose bianche, giocattoli, vestiti caldi ma soprattutto alloggi e tanto affetto. Sono state accolte così le prime famiglie ucraine arrivate a Teramo ed invitate nella sede della Caritas Cittadina. Presente il sindaco Gianguido D'Alberto e il vescovo Lorenzo Leuzzi. Un'accoglienza che si estenderà ad altri profughi di guerra che si annunciano numerosi sull'intero territorio provinciale. Il prefetto di Teramo Massimo Zanni insieme ai comuni e all'ASL sta infatti coordinando le azioni umanitarie. La diocesi Teramo Atri si è trovata coinvolta perché alcune donne che lavorano come assistenti familiari sul territorio ci hanno chiesto una mano per far venire i propri parenti e quindi ci siamo trovati sin dall'inizio in una situazione che comunque non era strutturata ancora sul territorio, ma sul territorio italiano. Quindi sono stati i primi a venire via subito quando al 24 mattina ci sono stati i primi bombardamenti. Quante famiglie avete ospitato? Noi sosteniamo quattro nuclei familiari qui sul territorio per un totale di 11 persone in questo momento. Cercheremo, abbiamo, ecco appunto hanno fatto il tampone, la quarantena, la dichiarazione di presenza in questura, abbiamo inserito i bambini a scuola, stiamo cercando di coinvolgere le donne nelle nostre attività che abbiamo in maniera tale che possono anche cominciare a parlare l'italiano, una ragazza sarà inserita presto all'università e poi parteciperanno anche ai corsi del CPA per l'insegnamento della lingua italiana. Ma voi dove li avete alloggiati? Due nuclei familiari sono di appoggio alle proprie famiglie, quindi ai propri parenti e due si trovano temporaneamente alla pensione Zaraca, però stiamo cercando degli alloggi anche perché la Caritas sin dall'inizio ha raccolto fondi per le Caritas impegnate direttamente, la Caritas Ucraina, le due Caritas Ucraine e le Caritas di Polonia, Moldavia e Romania che si trovano per l'accoglienza dei profughi e poi ha raccolto la disponibilità di case e famiglie che si aprono appunto ad ospitare i profughi, per cui li sistemeremo in queste situazioni che sono state proposte. E intanto lavora a pieno ritmo anche la mensa della Caritas diocesana di Teramo, dove vengono preparati e distribuiti giornalmente decine di pasti caldi ed è impressionante il numero di cittadini terramani che spontaneamente salgono le scale della diocesi per offrire la loro disponibilità ad ospitare i rifugiati ucraini nelle proprie abitazioni. Martedì si è tenuta all'Aquila la conferenza sull'ambiente, una due giorni organizzata da Arta per stimolare un confronto sulle attività di monitoraggio delle agenzie e le sfide del futuro, tra cui la legge regionale su Abruzzo, regione del benessere. Vediamo. Transizione ecologica e benessere è il titolo della conferenza regionale sull'ambiente organizzata da Arta, alla presenza dei direttori delle maggiori agenzie nazionali per la protezione dell'ambiente e i vertici di Ispra, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che si confrontano tra oggi e domani all'Aquila presso l'auditorium del Parco. Una due giorni che consente ad Arta di esporre i risultati ottenuti dall'attività di monitoraggio dell'ambiente. Parte della conferenza è dedicata alle tematiche relative alla tutela dell'acquifero del Gran Sasso e delle due infrastrutture interconnesse, tra foro e laboratori. La necessità, più in generale, di trovare il giusto equilibrio tra il patrimonio naturalistico proprio della Regione Verde d'Europa e le esigenze sul fronte industriale. Questa sintesi bisogna coltivarla, continuare ad essere una Regione produttiva, una Regione aperta all'impresa e al lavoro, ma che sappia farlo nel pieno rispetto dei valori ambientali che diventano a quel punto il valore aggiunto per attirare turismo, oggi invece fino ad oggi poco sfruttato dalla nostra Regione che è poco attrezzata su questo settore, troppi anni di poca attenzione rispetto a questo settore e quindi noi stiamo lavorando per intercettare anche queste domande. Su vari strumenti, a cominciare dal Piano Nazionale di Recupero e Resilienza, per finire, passare poi alla programmazione ordinaria dei fondi europei che sta iniziando, ci sono risorse importanti su questi temi che vanno dal ciclo dei rifiuti, quindi in piantistica, comuni, aziende e consorsi hanno presentato e stanno presentando progetti per ampliare le piattaforme del trattamento dei rifiuti, parliamo di logistica e di infrastrutture per rendere l'Abruzzo sempre più accessibile, ci sono progetti sulle bonifiche ambientali e la tutela dei corsi d'acqua, quindi un tana serie di progetti che servono a trovarci pronti all'appuntamento, in particolare sul fronte energetico, noi siamo capofila di progetti molto ambiziosi sull'idrogeno e in particolare sull'idrogeno verde. Visita ufficiale in settimana dell'ambasciatrice dell'Armenia in Italia a Pescara per la celebrazione del trentesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Armenia. L'ambasciatrice ha parlato del conflitto in Ucraina auspicando un cessate il fuoco immediato. Visita questa mattina a Palazzo di Città Pescara dell'ambasciatrice straordinaria e plenipotenziaria della Repubblica di Armenia per un incontro con il sindaco Masci e i rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico e imprenditoriale abruzzese. L'occasione è anche servita per la celebrazione del trentennale delle relazioni diplomatiche tra Armenia ed Italia. Non è mancato ovviamente un accenno da parte dell'ambasciatrice a quello che sta accadendo in questi giorni in Ucraina. Quest'anno celebriamo il trentesimo anniversario dell'instaurazione dei rapporti diplomatici tra l'Italia e l'Armenia che è un anniversario molto importante per noi. Sia la Russia che l'Ucraina che il popolo russo e il popolo ucraino sono entrambi per noi popoli amici e noi ci auguriamo che quanto prima si possa stabilire la pace nella regione. Si terrà il quarto round e speriamo che sia l'ultimo round dei negoziati, speriamo che si possa arrivare a un accordo e che si possa firmare un documento che metta fine alla guerra. A fare gli onori di casa il primo cittadino di Pescara, Carlo Masci. Per noi è un piacere e un onore averla qui anche perché si tratta di una popolazione che ha avuto purtroppo sofferenze grandi e oggi un momento culturale può rappresentare una situazione di tranquillità e di serenità in una situazione difficilissima quale quella che stiamo attraversando nel mondo. L'aumento dei prezzi di materie prime e combustibili mette a serio rischio la ripresa economica post pandemia con Confessor Centi che chiede interventi immediati per evitare il crollo dei consumi. Ascoltiamo. Crescono le preoccupazioni del commercio, della produzione alimentare, della ristorazione e del turismo alle prese con l'aumento dei costi energetici e di trasporto, con l'incremento dei costi delle materie prime, con la crisi dei consumi e delle previsioni sul turismo di questi temi. Ha parlato la Confessor Centi regionale Abruzzo questa mattina a Pescara nel corso di una tavola rotonda. C'è preoccupazione per il futuro e si chiedono risposte urgenti a regione e governo. Una situazione assolutamente insostenibile, dopo marzo 2020 con un calo a livello nazionale di più di 150 miliardi di prodotto interno lordo, eravamo arrivati a fine 2022 con un recupero circa di due terzi di quello perso e le previsioni per il 2022 erano di un recupero quasi totale. Con questa situazione del caro energia, della guerra che è scoppiata in Ucraina, si sta tornando indietro e il rischio è che nelle prossime settimane in qualche modo ci sia un peggioramento e quindi una situazione di inizio pandemia. bisogna intervenire sul caro energia, ci sono diversi modi con cui si può incidere, ad esempio sull'extragettito derivante dall'IVA sull'aumento dei prezzi, in qualche modo queste risorse possono essere riutilizzate per calmierare quello che oggi bisogna calmierare anche solo momentaneamente e quindi utilizzare queste maggiori risorse che lo Stato in Camera per in qualche modo tagliare i prezzi anche solo momentaneamente, ripeto, non chiediamo interventi strutturali ma in questo momento bisogna assolutamente fermare questa corsa speculativa. Importante operazione messa a segno del comando provinciale della Guardia di Finanza di Pescara. Le fiamme gialle hanno messo fine ad un sistema piramidale che grazie al busines del carburante era riuscito a sottrare alle casse dello Stato circa 45 milioni di euro. Viaggiavano con un'autocisterna strapiena di carburante procacciato a prezzo agevolato e venduto ai distributori stradali a meno della metà del costo. Il mercato nero del gasolio, da cui prende nome l'operazione Oro Nero, regalava in pratica il carburante ai distributori che a loro volta però rivendevano a prezzi stellari. Il tutto senza versare l'IVA. Questo meccanismo ha insospettito il comando provinciale della Guardia di Finanza di Pescara che ha scandaliato l'architettura di un sistema fraudolento in essere lungo tutta la penisola e per il quale sono partite 17 denunce per i reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oltre che per riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta. Ai vertici di un sistema piramidale c'erano fornitori nazionali e comunitari di petrolio dai quali società cantiere del tutto tarocche e per niente operative, rappresentate da prestanome appositamente reclutati nullatenenti e che non hanno mai operato nel settore carburanti. L'argunto meccanismo fraudolento si basava sull'utilizzo di fatture false mentre la differenza veniva di fatto restituita in contanti aggirando così norme fiscali e commettendo un grave danno alle tasche dell'erario. L'attività investigativa ERTA su dati incrociati ha permesso alle fiamme gele di Pescara di scovare una materia imponibile pari a più di 207 milioni di euro per univa evasia di oltre 45 milioni di euro e intanto procedono al sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente come disposto dalle procure di Lanciano e Velletri di quasi 8 milioni di euro. L'operazione Ronero è un esempio importante di come questo tipo di attività illecite vada a pregiudizio non soltanto dell'erario dei cittadini ma abbia causato una forte alterazione del mercato soprattutto in questo momento in cui pesa sulle tasche di cittadini il caro carburante. 45 milioni di euro che noi adesso attraverso anche attività di carattere amministrativo verifiche e controlli fiscali recupereremo all'erario e recupereremo ai cittadini. Oltre 1000 i profughi in fuga dall'Ucraina giunti nella nostra regione. Tra questi ci sono diversi bambini e per questo la regione Abruzzo unitamente all'ufficio scolastico regionale sta mettendo in campo tutte le misure adatte per rendere agevole l'ingresso nelle scuole. L'Abruzzo da tre settimane ormai ha dato grande dimostrazione di cuore di accoglienza soprattutto ecco c'è la possibilità che i bambini possono essere già inseriti all'interno del sistema Abruzzo mandandoli a scuola. Sì l'assessore competente cuoresimale sta facendo le riunioni con gli uffici scolastici regionali con le prefetture e con il tribunale dei minori proprio per favorire questa integrazione. D'altronde i bambini che sono arrivati a cominciare da quelli di Cerchio e poi San Benedetto dei Marsi e tante altre città che hanno cominciato ad ospitare bambini sono purtroppo spesso anche bambini orfani. Alcuni avevano già delle pratiche di adozione in corso e si sono i genitori e le associazioni che curavano queste pratiche opportunamente si sono sbrigati ad andarli a prendere al confine con l'Ucraina proprio per evitare una loro triste fine e poter perfezionare questo passaggio. Ecco l'Abruzzo che veniva negli anni da tante disgrazie, tante catastrofi, si è sempre rialzata, si è rialzata dai terremoti, anche dalla pandemia. Si aspettava questo grande cuore degli abruzzesi anche rispetto a vicende che arrivano fuori dalla nazione? Ma non c'era alcun dubbio, anche se fa sempre piacere scoprirlo ogni volta, però non c'era alcun dubbio che di fronte a una tragedia emane, a un esodo biblico di questo genere ci sarebbe stata una grande risposta. Noi abbiamo detto sin da subito, anche all'ingegner Curcio, al capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, che siamo pronti e ci faremo trovare pronti. Se l'afflusso di profughi dovesse proseguire e dovessimo avere difficoltà, non solo in Abruzzo, ma in tutta Italia, a trovare un'immediata sistemazione dignitosa negli alloggi, noi siamo pronti in 24 ore a realizzare tendopoli e centri di smistamento, a cominciare dall'interporto di Avezzano, come abbiamo fatto con i profughi dell'Afghanistan, che anche lì nel giro di pochi giorni arrivarono migliaia e migliaia di persone portate con un ponte aereo. Non c'era un'immediata disponibilità di alloggi e di sistemazione per poterli in qualche maniera distribuire per l'Italia. Ricorderete che Avezzano ne accolse diverse migliaia per una settimana o due, fino a quando poi le strutture dello Stato e le prefetture hanno in qualche maniera distribuito queste persone sul territorio nazionale. Quindi l'Abruzzo è sempre pronto. L'ospedale di Atessa in due anni ha subito un notevole potenziamento. Sono stati inaugurati altri due reparti. Ed è stato il Covid a salvare l'ospedale, ha detto il direttore della ASL2. Ascoltiamo. L'ospedale di Atessa nel corso della pandemia ha cambiato faccia affermandosi come presidio sanitario di riferimento della Val di Sangro tramite investimenti pubblici e privati. Dopo il reparto di riabilitazione, quello di radiologia, oggi taglio del nastro per l'endoscopia e il nuovo pronto soccorso. Lo abbiamo fatto tenendo i conti in ordine, ha detto il presidente Marsilio. Questo poi è la ciliegina sulla torta, perché avremmo avuto buone ragioni per presentare bilanci in deficit e andare a raccontarlo e a spiegarlo. Nonostante il governo non ci abbia risarcito di tutti i soldi spesi per l'emergenza Covid, noi siamo riusciti a tenere i bilanci in ordine, compresa l'ASL di Chiedi, che era quella che partiva peggio di tutte, perché da anni ormai si è stratificato un deficit strutturale in questa ASL che il dottor Scelle sta in qualche maniera raddrizzando e risanando in maniera altrettanto strutturale, questa è la cosa più importante. La rivoluzione della sanità da Tessa è cominciato quando qui furono ricoverati i pazienti contagiati dal virus. Il Covid ha salvato l'ospedale, le parole del direttore della ASL. Chiaramente abbiamo anche usato i fondi Covid messi a disposizione dal governo per ristrutturare questi riparti Covid, abbiamo trattato più di 400 pazienti delle prime ondate in questo ospedale, per cui senza il Covid, senza cogliere l'occasione di prendere questo rilancio anche dal punto di vista dell'investimento, penso che a Tessa oggi sarebbe destinato a morire come tanti ospedali piccoli di questo paese. Un cittadino abruzzese originario di Roseto degli Abruzzi è morto a San Andresi in Colombia a seguito dell'attacco di uno squalo tigre. Originario di Roseto degli Abruzzi è morto in Colombia attaccato da uno squalo tigre. Antonio Straccialini, 56 anni, era in vacanza nei pressi dell'isola San Andresi, un luogo chiamato Piscinita per le sue acque cristelline, dove erano già avvenuti episodi simili in passato. A renderlo noto è un notiziario colombiano. Mentre si trovava su una moto d'acqua, l'abruzzese è stato morso alla gamba destra da un pesce cane di due metri. Trasportato d'urgenza in ospedale, l'uomo è morto per dissanguamento a causa della profonda ferita. Non lo conoscevo personalmente e mi dicono che era partito tanti anni fa, ha commentato il sindaco di Roseto, Mario Nugnes, comune dove attualmente risiede la sorella della vittima. Stando ai media locali, i funzionari dell'entità Coralina, società che si occupa dello sviluppo sostenibile dell'arcipelago, avrebbe preventivamente avvertito il turista di non fare il bagno in quella zona a causa dell'allerta squali. Lo squalo tigre è tra le specie di squalo più territoriali e quindi più aggressive. Nel 2021 i morsi di squalo ad esseri umani sono stati complessivamente 73. Degrado nelle case popolari di Via Lazio 61 a Montesilvano. La denuncia arriva dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che parla di situazione ormai insostenibile. Vediamo. La situazione è notevolmente peggiorata, perciò siamo qui. Allora, intanto, appena siamo arrivati, siamo entrati nel locale Contatori, abbiamo visto le cose allarmanti, fili, allacci completamente abusivi ed evidenti alla corrente, alla cabina, ma addirittura si allacciano anche, abbiamo scoperto, all'antenna che sta sopra al terrazzo, abusivamente. Qui ci sono anche allacci di acqua abusiva, allacci al gas e quant'altro pericolosi, ma quello che abbiamo trovato sono discariche enormi a cielo aperto all'interno dei piani, addirittura per la prima volta non siamo riusciti ad accedere al terrazzo. L'accesso è precluso da una catasta immensa di immondizia. Avete visto le immagini parlano da solo, ma non solo. Qui si continua a delinquere. Questo parazzo è rimasto quasi completamente in mano ai clan, mentre prima, perché la situazione è peggiorata, mentre prima c'erano le famiglie oneste, adesso sono andate tutte via, quindi qui sono rimasti delinquenti, criminali, pluri pregiudicati, il 99%, qualche famiglia è ancora rimasta. Quindi il palazzo è completamente in mano ai clan. Ricordiamo che qui sono stati trovati proiettili, sono stati trovati pistole, si spaccia droga giorno e notte, ci segnalano anche qualche appartamento dove si consumano atti illeciti, anche esercizio della prostituzione e tante altre cose ci segnalano i cittadini. Non riescono a dormire più una notte per la situazione catastrofe. Io ho la ricetta in tasca. Cosa bisognerebbe fare? Semplicissimo. Qui basterebbe le due amministrazioni comunali congiunte, Pescara e Montesilvano, perché la proprietà del Comune di Pescara, a maggior parte, insiste sul territorio di Montesilvano, dovrebbero emettere ordinanze condigibili e urgenti di sgombero immediato di tutti gli occupati, perché si può fare per questioni di igiene e sicurezza pubblica, poi transennare il palazzo, montare il cantiere, una vigilanza H24, anche privata, fino a quando non si fa, la riqualificazione e la demolizione. Altrimenti rientrano dentro. Cosa invece si sta facendo? Si stanno facendo degli sfratti spot. Significa oggi sfratto un abusivo, domani ne rientrano due. Si stanno spendendo in vano soldi pubblici e non si risolverà mai il problema. Quindi mi auguro che adesso mi ascoltino davvero per risolvere questo problema a tutela la gente onesta di questo quartiere. Adesso cambiamo argomento, parliamo di sport serie C. Ieri al Bonolis si è giocato il derby tra Teramo e Pescara. Vediamo com'è andata la partita. Nessuno perde il derby che nessuno poteva perdere. Al Bonolis finisce 0-0 tra Teramo e Pescara un pareggio come all'andata che al diavolo va decisamente meglio. Pescara gioca un tempo meglio dell'altro e il punto che porta a casa diventa positivo se abbinato alla sconfitta dell'Entella. Il canovaccio, quello che in molti, quasi tutti avevano immaginato nell'immediata vigilia, tradotto sul terreno di gioco. Pescara col pallino in mano, Teramo attento a chiudere più linee di passaggio possibili. In una prima frazione nella quale le opportunità sono spesso potenziali. Lombardo pennella con la punizione per la testa di Soprano mentre il piazzato di Pontisso da posizione defilata trova la chiusura di Bernardotto. In mezzo la staffilata alta di Pompetti, delfino pericoloso quando si accende d'Ursi su alla finta con destro che chiama i polpastrelli di Perrucchini al miracolo in corner. Poi una lunga fase in cui il diavolo si accende più del Pescara anche se è della formazione di Gaetano Oteri l'occasione più nitida. Minuto 37 con il corner di Pompetti su cui Perrucchini sbaglia l'intervento che permette a Ferrari di schiacciare in porta un pallone che sarebbe destinato in fondo al sacco se non fosse per l'intervento. Providenziale di Arrigoni sulla linea di porta. Ripresa tinte un po' più bianco-rosse che bianco-azzurre, ancora la testa di Soprano ad aprire le danze mentre il solito sacrificio di Bernardotto libera la battuta che resta solo nelle intenzioni di Jacoponi. Auteri inserisce Rauti per Clemenza, Guidi passa al 3-5-2 con Rossetti e De Grazie insieme ad Andrea. Proprio l'ex piacentino potrebbe stappare la partita quando riceve lo scarico di Bernardotto ma non inquadra lo specchio della porta. Stesso esito, sempre con Bernardotto protagonista, 10 dal novantesimo, stavolta l'asse mancino Mordini e Rossetti libera il tiro cross dell'attaccante su cui però nessuno arriva a correggere. Gli ultimi cambi servono prevalentemente a congelare una gara che di spunti non ne offrirà quasi più. Fatto salvo il rilancio tanto casuale quanto pericoloso di Jacoponi che chiama Sorrentino ad uno dei pochi interventi di un derby che si chiude senza gol e che rimanda ai destini di Teramo e Pescara agli ultimi appuntamenti della stagione. Una stagione che però con gli oltre 3.000 del Bonolis ha regalato all'Abruzzo un altro pomeriggio da protagonista. Con questa notizia termina l'edizione del TG6 la settimana. Grazie di averci seguito, buon proseguimento.